Decisioni rapide e chiare sul futuro di Bagnoli è il messaggio lanciato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo la riunione della cabina di regia tra Comune di Napoli e Governo. Si è cominciato a risolvere il problema del contenzioso, adesso ovviamente bisogna andare avanti. La cosa più delicata è arrivare a fare delle scelte. È evidente che anche l'assetto urbanistico, infrastrutturale, è legato alle scelte che si faranno per Bagnoli. Però possiamo guardare, credo, con fiducia una volta tanto anche all'evoluzione della questione Bagnoli. L'ex sindaco di Salerno ha poi replicato con una battuta a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Matteo Renzi, che aveva definito Di Maio e De Luca la strana coppia. Di Maio è un bell'uomo, ha detto il governatore, che ha commentato anche la notizia proveniente dagli USA, secondo cui la Russia avrebbe trasferito 300 milioni di dollari ai partiti di 20 paesi. Credo che sia un dovere di dignità nazionale, via. Si può essere dipendenti da un paese straniero per le forniture energetiche, e questo lo si può capire, ma dipendenti perché corrotti da un governo straniero, no. Almeno questo dovrebbe unire tutte le forze politiche che hanno un senso di dignità nazionale. Parole pronunciate a margine della presentazione del distretto dell'audiovisivo, un progetto che esorgerà a Bagnoli e che mira a realizzare in Campania una sorta di cinecittà.